Incontro a Palazzo San Giacomo con il sindaco di Napoli Luigi De Magistris che ha ricevuto 10 ragazzi e ragazze dell'associazione liberamente con le loro squadre di sitting volley maschile e femminile. Il sitting volleyball è uno sport derivato dalla palla a volo e adatto per la pratica sportiva delle persone diversamente abili. L'obiettivo è favorire l'integrazione sociale dei partecipanti poiché può essere praticato senza distinzione da categorie di diverse abilità e anche da soggetti normodotati. Atleti meravigliosi ha detto De Magistris che hanno portato in alto il nome della città in questa disciplina paralimpica ed una esemplare associazione sportiva che ha lavorato tantissimo affinché Napoli fosse la capitale del sitting volley lo scorso 9 giugno.